Ciao, benvenuti e bentornati nella mia stanza. Oh mio dio, da quanto è che non lo dicevo, è tipo passato un'eternità, almeno un anno, che non facevo un video. La cosa più evidente che è cambiata sono i miei capelli, si sono accorciati di tipo 30 centimetri e sono un colore diverso. Vi siete persi un sacco di colori, in questo periodo. Sono stata dal rosso, sono forzata all'arancione, poi al ginger sempre più chiaro, poi ho fatto il magenta, poi ho fatto il blu, poi ho fatto il turchese, il viola, il fucsia e adesso sono al mio colore naturale. A parte ci sono delle puntine qua che sono l'avanza della decolorazione, questa è tutta la ricrescita che è cresciuta nel mentre. In questo video volevo parlarvi di, non di cosa fare in quarantena, ma la mia top free di varie cose. Quindi ci sarà la top free dei videogiochi, dei profi di Instagram, dei canali YouTube, dei videogiochi per il telefono e così via. Cioè così via, queste sono le categorie. Quindi partiamo subito dai videogiochi. I videogiochi gratuiti, perché poi parliamo anche di quelli che si comprano. Allora, la mia top free di videogiochi gratuiti è innanzitutto League of Legends. Per chi non lo conosce, cioè è impossibile, tutti lo conoscono League of Legends. Che lo ami o che lo odino, tutti lo conoscono. È un tipo di gioco di strategia, non lo so. Cioè, in realtà non sono molto brava col definire come siano i giochi, però è molto bello. Ha un sacco di personaggi, è una teamfight, quindi 5 contro 5. Praticamente voi scegliete un tipo di personaggio in base alla linea in cui volete andare, perché ci sono tre lane. Praticamente c'è quella del mezzo, quella bassa, la bot e la top. In base a dove andate scegliete un tipo di personaggio. Si possono comprare varie skin, c'è tutto un altro mondo da scoprire con League of Legends. Fanno anche i mondiali di League of Legends, per chi non lo sapesse. Si guadagna pure un botto vincendo i mondiali, se non sbaglio. Ogni personaggio è fantastico per fare un cosplay, quindi daccici uno sguardo. Poi Paladins. Paladins è uno sparatutto, più o meno, che è molto simile a Overwatch. Perché è uscito più o meno nello stesso periodo, solo che questo è gratuito, se non sbaglio, a differenza di Overwatch. È partita come la brutta copia di Overwatch. E poi si è evoluto, vabbè, è evoluto. E comunque ha fatto personaggi diversi. Però il tipo di gioco è lo stesso. Alcuni personaggi erano davvero molto simili, quindi infatti c'è una specie di faida tra i giocatori di Paladins e quelli di Overwatch, tipo Willy, come gli scozzesi, altri scozzesi. Comunque, è molto carino, anche questo gratuito. A me tendenzialmente non piace quel tipo di videogioco. Però questo, non so perché, mi ha preso e quindi ci ho continuato a giocare. Terzo e ultimo gioco di quelli gratuiti, Neverwinter. È un gioco di ruolo online per la serie tipo Skyrim, tipo tutti gli altri giochi di ruolo che esistono. È molto carino che questo gratuito c'è da secoli, se non sbaglio, online. Ogni volta si aggiorna, ovviamente, ed è sempre più bello. Se vi piace il genere, molto carino per passarci, tipo, quelle due-trecento ore che vi fanno passare la giornata. Poi, tra quelli che si comprano, quindi da spenderci soldi, io vi consiglio, innanzitutto, The Binding of Isaac. Allora, The Binding of Isaac è un gioco... sinceramente non so come si viene definito e dovete guardarlo. Guardatevi un video di come è molto cruento, è molto dark, diciamo, per lo stile un po' black humor, per intenderci. È fantastico, però anche qua ci passate ore, perché non ha una trama lineare, ma sia un inizio e una fine, ma quest'inizio, questa fine possono... anzi, l'inizio non varia, la fine può variare molto. Ci sono molte varianti in questo gioco e molte cose si sbloccano facendo determinati... tipo, finisci il gioco con questo determinato personaggio, ti sblocco qualcosa o ti sblocco un oggetto o un altro personaggio e così via. su Steam si trova... adesso appunto ci sono gli sconti, quindi gli spring sale, e quindi lo trovate a 10 euro forse, 10-15, questa è la fascia di The Binding of Isaac, ha un sacco di DLC che potete comprare o meno, ci sono le varie bundle, quindi con tutti i DLC mai esistiti che costano una fesseria, praticamente. È davvero consigliato. Poi, sempre su Steam vi consiglio Castle Crashers, che è della serie Super Mario, anche vagamente la trama, tipo la principesse sono state rapite, tu le devi salvare. Solo che è molto più divertente, è umoristico, anche questo si trova su Steam, adesso è super scontato, ha tipo 2 euro o qualcosa, è un sacco carino, provatelo o guardate almeno il gameplay, perché tanto c'è lì su Steam la preview di com'è. È davvero molto consigliato. Poi, ultimo ma non per importanza, gioco a pagamento, che penso sarà il più caro, e dico penso sarà perché non è ancora uscito. Io vi parlo di Diablo 4, che è il mio grande amore Diablo, perché è fantastico quel videogioco. Io ho giocato al 3, ci sono state ore e ore e ore a giocare a Diablo 3, non scherzo. È un... neanche un RPG, perché comunque hai il tuo personaggio, vai in giro per il mondo, fai missioni o ci dimostri le solite cose. Il 4, in teoria, dovrebbe uscire quest'anno, ma gli sviluppatori sono molto sul... rega, calmi, che non lo sappiamo manco noi quando finiamo. Però hanno fatto il trailer che, ragazzi, ragazzi, è una bomba il trailer. Cioè, è fantastico. A parte che c'è il personaggio, non il personaggio femminile, però nel poster, diciamo, di solito Diablo è raffigurato come un personaggio maschile, ok? Molto alla larga, perché Diablo, se l'avete visto, non è esattamente un personaggio maschile. Non so se questo cattivo, diciamo, il boss finale è lei, perché se lei è tipo... vabbè, vabbè, lasciamo stare. Io, tipo, quando l'ho visto, l'ho visto forse a fine 2019, perché mi sembra che l'hanno fatto a vedere, hanno fatto a vedere il trailer al dicembre di 2019, io quando l'ho visto ero tipo, no, vabbè, cosplay subito, solo che è tosta fare quel cosplay, molto difficile. Comunque, non stiamo parlando di cosplay. Sì, Diablo, quindi, siccome non è ancora uscito il 4, provate il 3. C'è sulla Blizzard, c'è sulla Blizzard in prova, altrimenti lo potete comprare tranquillamente, se non sbaglio costa una ventina di euro, forse. Anche qua ci passate ore, 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 ore. C'è anche il multiplayer, se non sbaglio, nel 3, quindi si può anche sfidare qualche amico, convincerlo a giocare, tipo, cose così. Passiamo alla categoria videogiochi mobile, quindi per il telefono. Io praticamente installo e cancello una quantità di giochi in una poca, in un poco lasso di tempo, perché mi annoiano terribilmente subito. Di solito gli RPG, anche qua, li tengo magari 2-3 settimane e poi li cancello, perché diventano troppo ripetitivi. Non è il caso, per ora, di Black Desert Mobile. È molto carino, è molto personalizzabile il personaggio, anche qua, missioni, uccidi mostri, fai cose, tirano ricompense, sali di livello, diventi sempre più forte, uccidi tutti quanti. Ci sono anche, se non sbaglio, delle ricompense con Amazon Prime, quindi magari dateci uno sguardo. Poi altro, Board King. Board King è un gioco di società, diciamo, ma senza la società, perché praticamente tu hai la tua mappa, il tuo board, tipo Monopoly, e tu vai avanti, costruisci i... oggi non so parlare... vai avanti, costruisci i palazzi, finisci i palazzi, finisci il board, quindi passi a un altro board e tutti questi livelli hanno un tema, tipo c'era quello di Natale, quello di Halloween, quello dei cowboy nel deserto, quello dello sport, comunque ce ne sono un sacco. Molto carino, io ci gioco da un paio d'anni ormai, mi pare, e mi tiene ancora, diciamo, attaccata al telefono. Certo, tipo 18 ore, però è un sacco carino. Poi, ultimo, vorrei parlarvi di Arcero. Spero che si pronunci così. Ha vinto anche qualche premio, perché c'è tipo scritto. È molto carino, praticamente poi... tu sei un personaggio, è un videogioco lineare verso l'alto. Praticamente tu vai, spara automaticamente, e tu devi solo evitare di morire, praticamente perché il punto è quello, e puoi anche qua migliorare i personaggi, migliorare le armi, hai dei famigli che ti aiutano, e quindi fai queste cose, devi riuscire a finire i livelli, praticamente. Ci sono dei boss negli intervezzi, è molto carino. Dattici uno sguardo se vi va, tanto è leggerissimo, cioè... non peserà di certo tipo 5 giga, come quelli magari per il computer, quindi stiamo salvi. Passiamo a una categoria che ha solo una voce, ovvero quella del fitness. Io al momento non riesco a fare attività fisica, perché mi sono fatta male un piede un paio di mesi fa, e mi fa tuttora male. Lo so che dovrei farlo, ma non riesco a fare tutti quegli esercizi che richiedono magari solo un piede, o sforzare solo un piede. Ma comunque, anche se l'avessi dovuta fare, io mi affido sempre e comunque a Blogilates. è una ragazza fantastica, fa un sacco di esercizi, e proprio in quel momento dell'esercizio, che tu stai per cedere, lei è lì e ti dice, forza, non mollare! E sembra che ti stia guardando, è tipo fantastica, sempre seguita da, non lo so, da quando è iniziato probabilmente. È davvero consigliata, nessun altro la batte. Allora, per Instagram ho deciso di scegliere delle persone che pubblicano molte storie, perché mi piace questo, come se fosse uno scambio, come se fosse su YouTube, ma non così artificioso a volte, ok? Allora, queste persone sono, a volte hanno anche il loro canale su YouTube, appunto, e io seguo tantissimo Shanty, Shanty Leaves, perché è un sacco carino, un sacco patatina, e non lo so, è molto coinvolgente. Poi seguo Alessia e Eric, che fanno cucina, praticamente, perché è un profilo di ricette, e si chiama Elefante Veg, molto carino, le ricette sono fantastiche, sono sempre super buone, e sono molto carini, poi loro due hanno anche un canale un sacco carino. E quindi niente, anche loro pubblicano un sacco di storie, sono simpatici e molto positivi. Poi, per quanto riguarda il bullet journal, perché anche quello segue un sacco di gente, un sacco di cose, ho scelto The Letter Salon, fa dei video di calligrafia, qua non mette le storie sue, penso sia lei, ma sono solo storie di scritte, di lettering, e siccome un po' mi sto dando alla calligrafia, almeno ci provo, sono molto molto carini, mette sempre quali penne usa, dove reperirle, eccetera eccetera, quindi molto consigliato. Per quanto riguarda YouTube, io ho unfollowato un sacco di persone, perché mi davano energia negativa, non mi trasmettevano felicità, tranquillità, e quindi basta, unfollowate. Oltretutto, molte di quelle ragazze che seguivo, o persone in generale che seguivo su YouTube, non pubblicano più, non so perché, ma cose che succedono, ma una di queste ragazze che seguo è Besiccaia, è un sacco carina, fa video di make-up, è divertente, è simpatica, è una patatina, anche lei, non c'è niente da dire, è una patatina. Così come Martina, non so come si pronuncia, Martina Daymex, anche lei mi piace un sacco, fa cose non sempre, diciamo, non normali, perché normale può esserlo per tutti, fa cose non da tutti, ecco, non da tutti, e mi piace un sacco anche lei, molto genuina. Ultimo della mia top 3 sono i Dear Stalker Pictures, e sono dei ragazzi che fanno video vari, perché è uno studio, diciamo, di registrazione, che fa video su giochi di ruolo, sessioni, faceva video su Lolita, sui Pokémon, e sono troppo divertenti, sono fantastici, sono davvero bravi con il loro lavoro, quindi con le macchine da ripresa, loro ogni volta che fanno un video, è un piccolo film, sono bellissimi, loro sono in... non inglesi, perdonatemi, loro sono, se non sbaglio, australiani, almeno all'inizio erano australiani i ragazzi, adesso non so, mi pare che sia cambiato qualcosa, però sono un sacco bravi, guardatelo. Due bonus per questa categoria sono, uno, Pixilox, è una ragazza, se non sbaglio, canadese, non ricordo, comunque che studia fashion design, comunque scuola di moda, è un sacco brava, fa dei video molto carini, divertenti, lei poi è... sembra un dolcetto, perché avesse sempre colori pastello, è molto colorata, la sua community è fantastica, sono tutti molto positivi, gentili, support... support... come si dice in italiano? Sono... ti supportano, ecco. Vabbè. Quindi mi piace un sacco sempre vedere i suoi video. Il secondo invece è Nomi John, io l'ho conosciuta relativamente da poco, ma fa dei video che ogni volta io rido a crepapelle, perché c'è tipo da poco ne ho visto uno che era lei che si ubriacava e tipo o faceva il suo make-up o faceva tipo si tingeva i capelli. cioè, era... era fantastico quel video. Era bellissimo, troppo divertente. Queste erano le mie top 3 di cose da fare, guardare, persone da seguire, giochi da giocare, che magari vi possono fare compagnia, che vi facciano passare il tempo in questo periodo. Spero che vi sia piaciuto, non so quando rifarò il prossimo video, spero presto, sinceramente. Quindi, io spero, come sempre, che il video vi sia piaciuto. Un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!